Donna aggredita con un'ascia nella notte tra sabato e domenica a Tremezzina in un appartamento di Lenno. Arrestato dai carabinieri il compagno, un uomo di 47 anni, ferita in modo serio al volto e all'addome, la vittima a 49 anni è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo. L'aggressione è avvenuta nell'appartamento di Lenno in cui l'uomo, Mauro Giudici, residente a Meda in provincia di Monza, Brianza, risulta di fatto domiciliato. Il 47enne era in casa con la compagna, 49enne residente a Seveso. Tra i due sarebbe scoppiata una lite, anche se la dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Durante la discussione l'uomo avrebbe poi impugnato un'ascia, colpendo violentemente la compagna al volto e all'addome. Ferita in modo serio dall'ascia, la donna è riuscita a scappare, a uscire in strada e chiedere aiuto. A Tremezzina è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa, oltre ai carabinieri della compagnia di menaggio. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Anna. Ha riportato ferite e traumi seri al viso e all'addome, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Il 47enne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. È stato portato in carcere al Bassone in attesa dell'interrogatorio. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Alessandra Bellù.